La farina è nelle sue vene, siamo con Raffaele Farina, pizzaiolo di Pizzalò. Raffaele, dove possiamo assaggiare la tua pizza? Allora, Pizzalò ha due punti vendita, Arco Felice e Pozzuoli via Consumbetto I. In tutti i nostri punti vendita usiamo Solania, perché dopo alcune ricerche abbiamo constatato che è un prodotto unico, buono e ai clienti tutti soddisfatti. Grazie a tutti.